Croni sbatterà questo Inizia a capire la selezionità Andiamo ragazzi a puntervi prego Leao si addormenta subito Come iniziare bene la partita Leao si addormenta subito Recupera palla Rade, bravo Rafa svegliati la partita iniziata Mamma Mazzocchi attaccato da Leao Va via Mazzocchi, va via Mazzocchi Va via Mazzocchi, va via Mazzocchi Va pure a tiro Di messa laterale Ma svegliatevi dai Ma cos'è sta roba Ma dovete mangiarveli porco cane Non stiamo mangiando nulla Cos'è? Ma dai Leao svegliati Leao ovvio Staccamento all'uomo sufficiente Sufficienza Ma te pebrei Ma non è più di teo Mamma Bellissimi truetti di Gomer Però c'è ancora Calulo, fa partire il cross Attenzione c'è Leao Leao finta, Leao dentro Cazzo Occasionissima per noi 22 minuti Occasionissima per noi 22 minuti Prima Abraim che serve sul lungo teo Ma mi è che bel pallone per il teo Bravo qui Ghiomber ha capito Ghiomber ha capito tutto Ho spazzato questa palla Leao finta su Mazzocchi E poi metto una scappata Voleva tirare in porta Tira una scappata Mamma mia giuro Perché Dall'altra parte per Leao Vediamo Leao, 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 Leao Prova il cross Non ha indovinato Anche una giocata Ma come si fa a non incazzarsi poi? Sembra Sembra Vlaovic Sembra il Vlaovic di ieri Ma come si fa a non incazzarsi poi? Nord sta indovinando una giocata Da fermo Cross in curva Quarta partita E lavorare sulla difesa Perché Poi In due partite su tre Non ha preso gola Dai Raffo Dai Dai Furtuore Furtuore Ragazzi Mamma mia Ragazzi Brutta partita Ragazzi Brutta partita Perché Dovete farmi soffrire così Figa Perché Ovviamente Sempre vicine Ragazzi Di sicuro Non si può dire Che il Bial Sta giocando bene In questo momento Perché non sta giocando bene Ma stiamo facendo scagazzare Dai Ma dai Ragazzi Cioè Niente cazzini Niente di niente Sì Sì Me la serva Voi Sbattiamo No Dunque Sbabbè La chissia Poi Magic Mike Mamma ragazzi Cosa stiamo facendo Sbagliarsene Andate a cagare Dai Oh Se non volete giocare Andateveni via Ma cos'è sta roba Ma dai Invece Va Ma se viene Castano Secondo me La va a chiudere Ma con un certo Di cazzate Proprio Prima appena si è Recuperato la palla Poi la perde Ma ragazzi Ma La deviazione di Krulic Io non capirò mai Inguisticia Oh mio dio Ciao Rischia Pula di D.A. recupera il pallone Magic Mike Mignan Cosa ha preso Magic Mike Mignan Cosa ha preso Magic Mike Mignan Ragazzi Mamma mia Mike Ciao Errore Clamoroso Ragazzi Ragazzi Sono senza parole Pula di D.A. Vada solo Davanti a Magic Mike Che si dimostra Non solo il portiere Più forte del mondo Ma anche il difensore Più forte del mondo Ragazzi Sono senza parole Ma ma cosa ha preso Magic Mike Senza fare fallo Senza fare fallo C'è l'intervento di Mike Ragazzi Benvenuti a provare Tegliatevi Ragazzi ma Ma state facendo cagare Dai Ragazzi Ci rendiamo conto Qua ciao Veramente Non ho capito Qua ciao Non l'ha visto Ho sbagliato Completamente Mamma Cazzo Ma che cazzo Di fenomeno È questo Qui Ma che cazzo Di fenomeno È questo Io a questo punto ragazzi Mi chiedo Come sarebbe finito Ragazzi Nooo Sarebbe potuto A finire in due modi Ho quali Di bulla idea Espulsione Caso di punizione Anzi Lo sarebbe neanche uscito Quindi espulsione Per Si prende Tutto Rosario Comunque Ragazzi Dai Noi non possiamo Continuare Scorso State facendo ridere Andiamo ben a stare Della bandierina Nooo Oli torna il gol 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 Su corner Incredibile va vero Si Incredibile va vero Su corner Si E andiamo Oli torna il gol Oli nostro No agli oli Torna il gol Oli nostro Portiamo per i Serie A Una a zero per noi Una a zero per noi Una a zero per noi Non giocando Il calcio di Lio Ovviamente Finalmente Su una palla inattiva All'ultimo Al primo tempo Facciamo gol Calcio d'angolo bello Facciamo gol E andiamo Codu Bene 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 Ragazzi E andiamo Codu Finalmente Un calcio d'angolo Battuto bene Colpito bene Da Oli Non ha neanche bisogno Non ha avuto bisogno Di saltare Adesso vediamo Di non dormire Finisce qua il primo tempo Proprio allo scadere Segniamo con Oli Su corner Di Benasser Eh si 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 è girato ancora Si è girato ancora Un primo tempo Molto acerbo dal punto di vista Del gioco da parte nostra Ma Male ragazzi Male ma Male Da tutti i punti di vista Perché comunque Ficciamo tanti errori individuali E non dico che sia stato Un primo tempo In stile Tira Milan Ovviamente Anche perché giustamente La salita di Italia Però ragazzi Abbiamo rischiato tanto Troppo 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 Mike ci salva il culo Mike ci salva Ci salva veramente la faccia E Giroud invece Ce la salva nuovamente Perché fa gol Un secondo tempo Dai ragazzi Dai ragazzi 1-0 per noi Oli allo scadere Sempre vivace Pierre Isma 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 se ne va Isma se ne va Isma se ne va Dio No Stavo più fuori voi Rafa stava per metterla in porta Ragazzi Grandissima azione personale Di Benasserra Mamma mia Isma Benna Cos'è stavo facendo Non è mia vita Isma Benna Mamma mia Isma Benna Quasi ne va via Ne fu fuori due Ne fu fuori due Che era il panico Isma Benna Mamma mia Non so se era un tiro O un cross Questo Non sono mai provato A proprio rubare il tempo A spizzare Attenzione Al culibali è andato Oh mio Dio Quanto piensa Le ritara Oh mio Dio Parola di dentro E lo sapevo ragazzi Ma sapete che c'è Ma sapete che c'è Ve lo meritate Ve lo meritate Ve lo meritate Siete dei coglioni Siete dei coglioni Ve lo meritate Magari adesso Vi svegliate fuori Mamma Magari adesso Vi svegliate fuori Mamma ragazzi Dio mio Mamma ragazzi C'è ancora il tipo L'IDA ragazzi Uno a uno Meritato Perché siete Dei polli Polli Siete Siete dei polli Completamente da solo Siete dei pollici Completamente da solo Di attimo Completamente da solo Ma dai Ma dai Ma dove eravamo Dove eravamo Rientra Fa partire il prossimo Mezzo Slater Divock Non la mette dentro Non la mette dentro Divock Incredibile Non so cosa sia successo Non so cosa sia successo Lì Zlatan Ha staccato prima Mazzocchi Non riusciamo neanche A recuperare il pallone Ragazzi Mazzocchi Popola di Diavo Cosa sto vedendo ragazzi Pionti 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 Prova ad andarsene Pionti Pionti Prova il tiro Paramagic Mike Paramagic Mike Poi noi c'è il calcio D'angolo Azione incredibile Stasera in ritardo Palla al piede Possesso palla Fino al tiro di Pionti Ecco Ma sono due Di Pionti Ragazzi Quindi che va Lulù Non lo trova nessuno Questa palla Ancora Teo Teo in mezzo Ciò la mette via È entrata È entrata È entrata No No non è entrata Non è entrata Questa palla Non è entrata Questa palla Ragazzi Non è entrata Questa palla Ragazzi Non si è capito Mamma mia ragazzi Non è entrata Questa palla Teo butta via Questa palla È tutta Dalla Salernitana Calullo recupera Finisce questa partita Siamo vergognosi Dobbiamo andare Veramente A quel paese Ragazzi Buttiamo via Una situazione Veramente Che era A nostro favore Veramente A nostro favore Ragazzi Brutta 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 Non è mai capitato Quest'anno Che il Milan Approfittasse Del fatto Che gli altri Avessero fatto Un passo falso Non succede Neanche questa volta Veramente Veramente Acerbi Veramente Acerbi Un'epoca Un'epoca Un'epoca